Diciamo la Cina per prima purtroppo ha vissuto l'esperienza del coronavirus e quindi ha la più larga esperienza di trattamento dei pazienti, soprattutto quelli più gravi. Quindi ricevere informazioni dai colleghi cinesi sul trattamento, su quelle sono state le necessità e siccome sono riusciti a mantenere una mortalità bassa, per noi è fondamentale perché mutuiamo queste indicazioni, le facciamo nostre e ovviamente le applichiamo nella nostra routine quotidiana e speriamo che possano essere utili anche agli altri paesi perché ora il fenomeno che era cinese è italiano ma è anche europeo, quindi è un problema dell'intera Europa e dell'intero mondo, quindi fare un share delle informazioni scientifiche ma anche di ostacolo alla diffusione è fondamentale fra i paesi. Ringrazio ovviamente le autorità cinesi e il servizio cinese sanitario che ci ha consentito rapidamente di avere informazioni e soprattutto ci ha dato un esempio di come gestire un'epidemia che così come l'abbiamo vissuta in questi mesi, forse la prima volta dopo moltissimi, moltissimi anni. Quindi io posso solo dire grazie alla Cina. Grazie a tutti.